Davide, avete vinto 3-1 contro il Castel San Pietro Romano, hai segnato il gol del 3-1, tra l'altro il tuo primo gol stagionale se non mi sbaglio, immagino che la tua soddisfazione sarà alle stelle. Sì, un gol importante sul 3-1, ho chiuso la partita, ma l'importante è che è valso qualcosa, abbiamo chiuso la partita, abbiamo vinto la partita e inseguiamo il Bellegra, ma mancano due partite alla fine, dobbiamo fare punteggio pieno a tutte e due e giocarsela allo spareggio finale. Possiamo dire che il riposo delle vacanze pasquali un po' vi ha giovato, visto anche gli ultimi risultati, visto anche il passo falso del Bellegra la settimana scorsa? Sì, un po' sì, abbiamo messo minuti sulle gambe, ci siamo allenati bene, ne abbiamo approfittato e ci siamo allenati bene per queste ultime partite, sentiamo di farle al massimo. Questo è il tuo primo gol stagionale, vuoi fare una dedica particolare, approfittare adesso non si sa mai? No, la dedica va alla mia famiglia, che mi supporta sempre. Cosa possiamo dire invece di Ranalli che in un paio di occasioni si è mangiato due gol? Vogliamo dirlo che un pochino dovrebbe appendere le scarpe a chiodo? No, no, quello no, quello no, è ancora giovane, ce l'ha ancora 6-7 anni. Per giocare. Speriamo tutti che entrava quel tiro da centrocampo, secondo me ha preteso troppo. Avete vinto 3 a 1 contro il Castel San Pietro Romano. Arturo, quanto è importante questa vittoria a 180 minuti dalla fine? Vabbè, tutte le partite hanno la stessa importanza. Ora che mancano 3 partite è importante vincerle tutte, quindi ogni partita è come una finale. Abbiamo vinto pure questa e ora aspettiamo il prossimo scontro diretto col Pantanello e l'ultima partita. Per giocarci al massimo lo scontro diretto col Bellegra. Alessio, secondo te c'è stato un cambio di passo nelle ultime due gare, visto che avete anche giovato delle vacanze pasquali? Sì, abbiamo accelerato per dimostrare il nostro livello e siamo migliorati. Quanto è stato importante quei due gol di Palombi nei primi minuti? Importantissimi, perché di solito noi il primo tempo non segniamo mai, andiamo molto piano, poi acceleriamo al secondo tempo. Oggi fare subito i due gol è stato importante perché ci ha dato pure la possibilità di stare ancora in vantaggio dopo il gol avversario. Invece il gol di Guglielmo, quello che praticamente ha messo il risultato in ghiaccio, posso immaginare grandi emozioni? Sì, è stato molto importante perché ci ha dato una sicurezza e siamo stati più tranquilli per tutta la partita. L'abbiamo gestita molto bene nel finale e abbiamo portato un grande risultato a casa. C'è stato secondo voi un grosso miglioramento nella difesa di questa squadra, visto che avete praticamente subito un solo gol nelle ultime tre gare, se non mi sbaglio? Sì, c'è un motivo d'orgoglio per noi. Sì, il miglioramento c'è stato e diciamo, visto che stiamo giocando sempre più spesso insieme, stiamo pure migliorando l'affiatamento e questo è importante all'interno della difesa. Nel prossimo turno ci sarà il Pantanello a Nagnina. Nella gara di andata avete perso proprio tra questi mura. Immagino ci sarà una grande voglia di rivincita verso il Pantanello. Sì, abbiamo molta voglia di rivincita e di fare il risultato, come tutte le altre partite, e di mostrare il nostro livello. Perché adesso da qui fino alla fine sono tutte finali e dobbiamo vincerle tutte per provare a superare il Bellegra. Dopo le vacanze pasquali lasciavo perdere le limitazioni, diciamo che Luigi Amato per la prima volta farà se stesso, ma a parte gli scherzi. Questa è la seconda gara che torni tra i pali, tra l'altro seconda vittoria consecutiva da quando ci sono state, dopo le vacanze pasquali, 3 a 1 contro il Castel San Pietro Romano. Che gara è stata per te? È stata una gara difficile. Io oggi la vorrei definire una giornata di sport, nel senso che ultimamente in queste settimane ci sono state addirittura delle... è stato insinuato che le squadre ormai che hanno raggiunto il loro obiettivo stagionale vengono qui a passare una giornata, una domenica. Invece oggi bisogna fare i complimenti al Castel San Pietro perché davvero ha fatto una partita, una bella partita, ci ha messo in difficoltà e noi continuiamo a lottare perché sappiamo che mancano ormai due partite, quindi il prossimo match sicuramente sarà molto, molto, molto importante. Ripeto, le partite, ripeto, siamo anche in una categoria, voglio dire, amatoriale, non c'è bisogno di fare questo tipo di insinuazioni per cui noi veramente continuiamo per la nostra strada e speriamo di arrivare fino alla fine e vincerlo questo campionato perché davvero ce lo meritiamo tutti. Negli ultimi 180 minuti nel quale tu hai difeso egregiamente i pali avete subito solamente una sola rete quel pallonetto che, diciamolo, forse si poteva evitare ma tralasciamo tutto questo. Possiamo dire che il tuo ritorno tra i pali è un po' gioioso visto anche quello che è successo nei mesi scorsi? Sì, sono soddisfatto, diciamo che è sempre bello ritornare in campo, è sempre bello fare delle belle prestazioni appunto poi per me, ripeto, è fondamentale vincere, poi Andrea comunque mi ha sostituito alla grande e devo ringraziare anche il mister Lepori che mi sta, dopo le vacanze pasquali, qualche chilo di troppo diciamo, ci ha ripreso quindi no, davvero, sono soddisfatto ma l'obiettivo non è quello personale, ovviamente di dare il massimo del contributo però davvero voglio assolutamente vincere questo campionato, quindi speriamo bene. La prossima settimana ci sarà il Pantanello Anagni, con quella squadra l'andata avete perso proprio tra queste mura ci sarà anche la contemporaneità della gara del Bellegra, quindi un altro tassello in più per quanto riguarda la lotta per la vittoria del campionato adesso si riparla di questo cosiddetto spareggio, nel caso in cui le due squadre dovessero arrivare a pari punti ecco, vi spaventa un po' questo spareggio? A me, parlo personalmente, queste sono le partite che davvero voglio giocare, cioè questi campionati sono belli per questo motivo e giocarsela davvero fino all'ultima partita diventa qualcosa di stimolante e il successo ovviamente eventualmente sarà ancora più bello, quindi noi ovviamente ci auguriamo che possa finire entro le giornate regolari qualora ci dovesse essere lo spareggio, se arriviamo a pari punti, sarà una partita secondo me indimenticabile per noi a livello, ripeto, di emozioni, di agonismo, quindi Pantanello sarà veramente molto difficile ripeto, nessuno ci lascia punti, per cui dobbiamo davvero dare il massimo, cioè dipenderà solo ed esclusivamente da noi e ripeto, spero che il Bellegra possa inciampare, lo dico davvero con forza Presidente, avete perso 3-1 contro il Certosa, dal suo punto di vista che partita è stata per la sua squadra? La nostra squadra, considerando il nostro potenziale, eravamo di qui magari per portare a casa un pareggio però chiaramente siamo andati sotto dopo i primi 4 minuti, la cosa ci è rimasta più difficile gli spazi sono stati aperti, di conseguenza abbiamo provato in due occasioni a fare qualche cosa sono bravo il portiere del Certosa a prendere una bella palla sotto il 7 e alla fine è finita 3-1, del resto la classifica parla chiaro Certosa a primo classifica e noi siamo quart'ultimi il nostro potenziale è questo Ecco, che campionato è stato per il Castel San Pietro Romano? Il campionato diciamo che noi abitualmente facciamo questo tipo di campionato che lottiamo sempre per la retrocessione in pratica per cui quest'anno diciamo che ci siamo salvati prima della fine del campionato e questo già è stato un risultato buono e utile che ci dà la possibilità di poter ripartire per l'anno prossimo sulla base dell'esperienza vissuta quest'anno e con l'impegno dei ragazzi che c'è stato del resto noi viviamo in una realtà calcistica che è differente da questa qua di Roma la qualità tecnica chiaramente c'è, la differenza c'è, si nota e noi cerchiamo di fare il nostro meglio Castel San Pietro è un paese piccolo, con una realtà calcistica diversa con un centro sportivo che non è come questo cerchiamo di difenderci sempre, con dignità Castel San Pietro è un paese piccolo, con una realtà calcistica diversa